Direi di iniziare. Buonasera a tutti, benvenuti al Circolo dei Lettori, grazie per essere qui. Voglio anche l'occasione per ringraziare gli organizzatori di Biennale Democrazia e i referenti del Circolo dei Lettori che oggi ci ospitano. Oggi, questa sera, parliamo di populismo nella cornice degli eventi di Biennale Democrazia sul secondo giorno. L'evento di oggi è organizzato in collaborazione con il CEST, Centro per l'Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari, un'associazione di studenti provenienti dai vari scuole di studi superiori italiane, le quali la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'Oius di Pavia e anche il Collegio Carlo Alberto di Torino. Il CEST è nato qualche anno fa per diffondere la cultura facendo agio sulle conoscenze dei propri membri, che sono tutti studenti universitari, qualcuno anche dottorando. Questo è il secondo evento di questa edizione del Biennale Democrazia che il CEST organizza, dopo quello di stamattina sulla Mismatch and Economy. Oggi parliamo di populismo prendendo spunto da una delle linee di ricerca proposte da Biennale Democrazia, uscite di emergenza. uscite di emergenza declinato con la parola emergere quale nuovo inizio, una parola carica di significato che in questa sede ci permette di affrontare anche le evoluzioni non solo della vita economica, culturale italiana ma anche della vita politica italiana e dei fenomeni ad essa interrelati. In particolare nel contesto democratico contemporaneo la parola e il termine populismo ha assunto una valenza maggiore, sempre maggiore. Non che non l'avesse in passato, ma nel corso degli ultimi anni si sono moltiplicate le occasioni in quale questo termine viene citato, quali commentatori e mezzi di stampa l'attribuiscono a soggetti diversi, tanto che viene spesso associata a stili comunicativi, altre volte viene associata a partiti politici, a movimenti politici e in passato è stata anche associata a regimi politici, veri e propri regimi politici, spesso del Sud America ad esempio. Qui possiamo intuire che parlare di populismo, discorrere di populismo non è un'operazione semplice, è un'operazione articolata, è un concetto difficile da definire e da capire. Non di meno anche il concetto di democrazia è un concetto alquanto difficile da analizzare, sia per i suoi risvolti storici, sia per quelli teorici. D'altra parte tra democrazia e populismo, e qui sta uno degli obiettivi di questo incontro, che vuole essere un incontro di scambio, un incontro di analisi critica, tra varie opinioni di autorevoli, studiosi, per uscire da questa stanza con qualche senso critico in più di come siamo entrati, vi sono numerosi punti di contatto tra populismo e democrazia. Ovviamente il primo termine che la parola populismo evoca è popolo, ma che cos'è la democrazia in una delle sue varie accezioni se non il governo del popolo, per il popolo, dal popolo? Questo è un interrogativo aperto. E questa, secondo il CES e secondo anche gli organizzatori di Biennale Democrazia, può essere l'occasione per discutere di questi due concetti capendo qualcosa di più della democrazia analizzandolo dal punto di vista del populismo e capendo qualcosa di più del populismo analizzandolo da una prospettiva democratica, democrazia rappresentativa, come di altre concettualizzazioni del fenomeno democratico. Bene, questo è anche un obiettivo della stessa Biennale Democrazia, un obiettivo di far sviluppare un senso critico, quindi un obiettivo anche civico. Adesso non voglio togliere ulteriore tempo ai nostri relatori, che ringrazio per la loro partecipazione. Sono il professor Marco Tarchi, professore di teoria, analisi e teoria politica all'Università degli Studi di Firenze, Yismeni, presidente della Scuola Superiore Sant'Anna, ma già professore all'Università di Rennes, Parigi e all'Istituto Universitario Europeo, e la professoressa Fazè, professoressa di filosofia politica presso l'Università di Torino. L'incontro si svolgerà con tre interventi da parte dei relatori e dopo aver sintetizzato alcuni punti critici verrà lasciato ampio spazio al dibattito, che è l'obiettivo principale di questo evento. Passerei subito la parola al professor Tarchi e ringrazio ancora tutti voi per la partecipazione. Buonasera e naturalmente grazie per l'invito. Come è stato direi molto efficacemente detto nella introduzione a questo nostro dibattito, il problema fondamentale che abbiamo di fronte per cercare di capire che tipo di rapporti si costruiscono di fatto tra populismo e democrazia è avere un'immagine quanto più possibile chiara di che cosa questi due termini stanno a significare. Ora, io non pretendo certo di abbordare qui nemmeno in sintesi estrema una discussione plurisecolare sulla democrazia non posso nemmeno, dati i tempi, pretendere a chiarificare una volta per tutte sarei veramente sfrontato il significato del termine populismo. Però penso che sia opportuno in apertura cercare di analizzare per grandi linee quali sono le possibilità di risposta alla domanda che cos'è il populismo per grandissime linee, per sinteticissime linee naturalmente proprio perché il termine, come tutti sappiamo, è degradato dall'uso che se ne fa e quindi rischia di essere da un pezzo e molti studiosi lo sanno da ben prima di me il professor Meni si è occupato di queste cose con molta maestria ancora prima che peraltro ormai quasi vent'anni fa cominciassi ad occuparmene io e sappiamo un po' tutti molto bene che via via che l'espressione è entrata o rientrata nell'uso prima scientifico, poi giornalistico, poi politico, poi diciamo di uso di opinione pubblica nell'ambito europeo, rientrato dico perché ovviamente come si diceva prima l'espressione era stata per lungo tempo utilizzata pressoché esclusivamente per definire regimi e movimenti politici dell'America Latina e più in particolare del Sud America questa espressione ha cominciato ad assumere più che la veste del concetto spendibile sul piano dell'analisi scientifica quella di un oggetto contundente che vicendevolmente viene scagliato nei confronti di bersagli o avversari o comunque oggetti polemici questo è un grande impedimento per riuscire a svolgere una analisi dei rapporti tra populismo e democrazia quantomeno sotto il profilo che professionalmente un po' più mi spetta che è quello di un'analisi empirica, fattuale e il più possibile seguendo la famosa indicazione di Max Weber a valutativa cioè in un tentativo di andare alle radici del fenomeno vedere in che cosa consiste prima quantomeno di esprimere una valutazione o un giudizio ovviamente questo è un problema minore per altre scienze sociali o altri approcci diciamo in ambito umanistico che hanno un'impostazione più normativa e quindi si preoccupano più del dover essere magari che non del puro essere la mia prospettiva invece è questa e lo è da molti anni tentare di analizzare la sostanza del fenomeno populista spogliandolo di connotazioni valutative sia positive che negative non è facile, non è facile nel discorso attuale non è facile nel dibattito che si è aperto non è facile nel clima nel quale viviamo però proviamoci veramente per piccolissimi frammenti io ho cercato anche recentemente in cose che ho scritto di delineare alcune piste per ricercare l'essenza del fenomeno populista si è già fatto riferimento e sottoscrivo e condivido al fatto che il populismo viene interpretato talvolta come un mero registro discorsivo, un modo di porre le cose una formula più o meno complessa o più o meno semplice di prospettare i problemi e le vie di soluzione si è parlato e giustamente si diceva di oggetti definibili come populisti in vari ambiti movimenti politici, partiti veri e propri, regimi eccetera si sono fatte altre proposte quella che ha suscitato più interesse accanto a quella dello stile politico nel corso del tempo è quella di vederlo come un'ideologia ma questa posizione ha avuto molto controindicazioni benché gli studiosi si siano sforzati di declinare il termine ideologia in questo caso secondo alcune indicazioni di vari autori Clifford Geertz citato dai Meni e da Yves Virel oppure Michael Frieden eccetera che danno l'idea di uno schema generale di interpretazione della realtà magari formato come dice Frieden da un nucleo piccolo centrale che è comune a tutti e poi cerchi più o meno concentrici che via via si diluiscono nel loro spessore per cui si potrebbe avere un populismo multicolore quindi declinabile soprattutto secondo le vecchie coordinate destra-sinistra con diverse gradazioni e anche talvolta con alcune commissioni però ci sarebbe un elemento ideologico di fondo io fatico a raccordarmi a questo tipo di analisi anche perché le formulazioni più convinte dell'essenza dell'ideologia populista penso per esempio a una molto citata lo studioso leandese Cass Mood sono ipersintetiche cioè in pratica parlano di un appello al popolo diretto da parte ovviamente di di chi si proclama come il difensore del popolo stesso e una volontà di scavalcamento delle mediazioni di tipo istituzionale che sono due elementi senz'altro significativi ma bastano a definire una ideologia in senso proprio? A mio parere no e quindi ho proposto un'interpretazione mutuata da un filone di ricerca che parte da un sociologo tedesco negli anni 20 e 30 Theodor Geiger passa attraverso uno studioso un politologo spagnolo poi trasferito negli Stati Uniti Juan Linz che l'ho applicato ad altri fenomeni soprattutto a regimi appunto non democratici e lo vedo come una mentalità caratteristica ora senza stare a riprendere esattamente i contenuti di questa mentalità mi sono portato perché ormai la memoria vacilla il mio stesso libro per dare la lettura esatta di questa mia lettura in poche righe dell'essenza del populismo inteso come mentalità io l'ho definito come la mentalità che individua il popolo come una totalità organica ovviamente in origine artificiosamente divisa da forze ostili gli attribuisce naturali qualità etiche ne contrappone il realismo la laboriosità e l'integrità all'ipocrisia all'inefficienza e alla corruzione delle oligarchie politiche economiche sociali e culturali e ne rivendica il primato come fonte di legittimazione del potere al di sopra di ogni forma di rappresentanza e di mediazione come tutte le definizioni è sicuramente criticabile contestabile discutibile a mio parere presenta l'idea del populismo come mentalità al di là della sua capacità in cui io credo di descrivere il fenomeno presenta diciamo un certo vantaggio nel comprendere come il populismo si espanda al di sopra e al di fuori dei normali confini che attraversano le aree politico-ideologiche che conosciamo un'ideologia è difficile declinarla contemporaneamente a destra e a sinistra se usiamo ancora queste categorie io ne diffido ma molti lo fanno una mentalità no e che cos'è una mentalità è soprattutto una predisposizione di ordine psicologico è un modo intuitivo di vedere le cose che poi si articola a seconda delle circostanze e su questo la letteratura scientifica in argomento ha detto tantissimo che non era diciamo almeno da me non ne ho le capacità riassumibile tutto in pochi minuti però per dire l'idea che ci sia una volontà semplificatrice della realtà nella mentalità populista ormai diffusa l'idea che ci sia una sorta di promozione dell'uomo comune dell'uomo qualunque dell'uomo della strada ha emblema simbolo di ciò che positivamente dovrebbe diventare diciamo il soggetto fondamentale di un di una di un rapporto democratico e varie altre cose diciamo incarnano questo tipo di mentalità allora se noi interpretiamo il populismo come mentalità che conseguenze ha questo nella valutazione del rapporto che può avere questo tipo questo modo di vedere le cose con la democrazia anche qui non posso andare a scoprire niente perché c'è un dibattito pluri 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 decennale su questo punto ho un grande esperto della materia al mio fianco quindi sono un po' intimorito da questo punto di vista anche se ci conosciamo bene e però devo anche richiamare qualche elemento diciamo ormai acquisito nella discussione sul rapporto fra populismo e democrazia come base di discussione beh io direi che sul molto che è stato scritto in materia ci sono alcuni punti fermi da cui possiamo partire partirei da una osservazione a mio parere molto acuta fatta da una delle studiose maggiori del fenomeno che è Margaret Canovan ormai più di 30 anni fa poi raffinata via via in vari interventi il populismo e la democrazia secondo questa autrice hanno un rapporto complesso che alla fin fine cioè alla fine non è ancora finito le auguro di scrivere ancora cose molto interessanti come le presenti sull'argomento Canovan pone in un'immagine populismo come l'ombra della democrazia cioè io tra l'altro ho suggerito un po' nella discussione stessa Canovan di andare oltre il significato che lei dà a questa espressione lei ne parla diciamo come appunto di una proiezione della democrazia che si distingue e possiamo dire poi due parole su questo da quelle che dei teorici classici della democrazia stessa della democrazia liberale in particolare ma c'è nella sua metafora secondo me un elemento molto interessante che non è stato da lei sviluppato l'ombra appartiene al corpo riproduce il corpo non è pensabile senza quel corpo è singolarmente legata a quel corpo però lo riproduce sempre in una forma che lo deforma quindi nello stesso tempo non è estranea al corpo lo riproduce ma non è alla fotografia è una cosa diversa e dunque da questo punto di vista noi possiamo immaginare primo una coesistenza forzosa del populismo e della democrazia ma nello stesso tempo una impossibilità di riduzione a una identità di populismo e democrazia e questo passa attraverso un riferimento che Canovan fa a un autore che l'ha ispirata diciamo a Michael Okshot filosofo politico che lo dico veramente in soldoni distingue due modi di interpretare la politica la politica della fede e la politica dello scetticismo ovvero un modo di vedere la politica come un elemento che porta verso grandi obiettivi ideali che possono essere anche quelli di cambiare il mondo e un altro modo che invece guarda molto più in orizzontale meno in verticale che è scettico appunto cioè sa che i grandi obiettivi alla fine per lo più si disperdono e che bisogna gestire la quotidianità e ricava da questo riferimento due visioni della democrazia la democrazia che chiama redentrice che fa dipendere dalla politica della fede che quindi vuole migliorare l'uomo vuole migliorare la società vuole redimere dai peccati quelle forme politiche che non sono pienamente democratiche e o invece una democrazia pragmatica che si preoccupa essenzialmente di risolvere i problemi del qui e ora e l'elemento molto interessante è che Canovan vede nascere il populismo diciamo nell'interstizio nello spazio che esiste nella divaricazione tra queste due forme di democrazia entrambi presenti non solo nella teoria ma anche nella prassi del discorso e del dibattito politico contemporaneo ed ha questa bellissima espressione definisce le due forme di democrazia come due litigiosi gemelli siamesi obbligate a rimanere insieme perché sono incollate l'uno all'altro però che non fanno altro che litigare e quindi contrapporsi in questo contrapporsi c'è l'idea del populismo il professor Meni e il professor Surel hanno declinato un'altra diciamo possibile lettura di questo tipo di discrasia e non invado il campo altrui accennando appunto a una possibilità di veder nascere il populismo attraverso questa difficoltà di tenere insieme il polo costituzionale quindi e istituzionale e il polo popolare cosa possiamo trarre sinteticamente da questa da queste visioni beh direi un elemento che possiamo discutere ma che a me pare al momento fortemente sottoscrivibile cioè l'idea che nella radice stessa della legittimazione della forma politica democratica appunto il richiamo all'autogoverno popolare c'è e ci sarà sempre una strada aperta verso prospettive soluzioni suggestioni o proposte di tipo populista ora che questo possa piacere o dispiacere è un dato di fatto nessuno lo discute io comunque no è evidente però questo mi porta a pensare che sbaglia chi crede che questi due concetti siano reciprocamente escludenti c'è ancora qualcuno che lo fa e che quindi dice ma il populismo è un po' una scorciatoia una via per arrivare poi all'autoritarismo o addirittura al totalitarismo con il mio collega con cui ottimi rapporti di discussione l'Oris Zanat americanista studioso del populismo diciamo c'è un po' un dialogo in discordia su questo punto anche se mi sembra che qualche avvicinamento sia stato lui per esempio vede i totalitarismi anche i totalitarismi novecenteschi come una proiezione quasi ideale o ottimale dei presupposti del populismo come dire quando il populismo non è raffrenato porta a questo ci sarebbe da discutere molto indubbiamente se uno intende il concetto di popolo secondo le linee della comunità della Volksgemeinschaft del pensiero völkisch della tradizione tedesca eccetera e lo ricollega al nazionalsocialismo all'esperienza del terzo Reich può dire che c'è una riccia di questo tipo ma l'abbandono poi di fatto della possibilità di espressione autonoma del popolo nullifica una delle premesse del populismo all'interno di una logica di tipo totalitario o anche di una logica di tipo autoritario quindi torno a pensare quello che vari anni fa diciamo avevo un po' scritto sull'argomento ovvero che il populismo è un ospite scomodo delle democrazie destinato come dire ad avere il suo posto a tavola anche se è un parente sguaiato piuttosto malandrino ecco che insomma ne dice quelle che non dovrebbe dire ne fa quelle che non dovrebbe fare quindi lo si vorrebbe mettere volentieri alla porta anche qualche volta lo si mette alla porta e tuttavia prima o poi ricompare Bussa e siccome è della famiglia bisogna farlo rientrare il che non vuol dire che non gli si possa insegnare in qualche modo anche l'educazione però è difficile pensare che in tempi come questi il risultato lo si ottenga per una ragione fondamentale che il populismo diciamo nelle sue proporzioni e dimensioni realizzate secondo me non è una causa ma una conseguenza dei problemi della democrazia quindi nasce da quello che la democrazia compiuta non sa fare o fa male non è un virus che aggredisce un corpo sano come qualcuno pensa e scrive e dice soprattutto in ambito giornalistico politico ma è qualche cosa che si espande proprio perché una certa forma di malanno si è già inserita all'interno del corpo democratico ed è una formula ovviamente che viene proposta come un rimedio che si può pensare faccia più male che bene così come un certo numero lo sappiamo di persone pensano invece che possa fare più bene che male e questo spiega il successo elettorale che stanno ottenendo determinati movimenti polisti concludo solo con un'osservazione che quando si fa scienza politica la parola è un po' sempre imbarazzante ma insomma quando si analizza diciamo scientificamente la politica secondo me bisogna un po' abbandonare le presunzioni predittive ecco io non sono per dell'idea che studiare scientificamente la politica serva soprattutto a fare previsioni serve certamente a mio parere a fare avanzare delle osservazioni critiche sul presente è difficile immaginare che cosa davvero il populismo potrebbe apportare a una democrazia compiuta finché i populisti e so che moltissimi vedono questo come diciamo il peggiore dei mali per carità è assolutamente legittimo ma come dire finché i populisti da soli in un determinato contesto non vanno al potere nel senso che non esercitano il governo secondo le loro logiche è difficile valutare la portata dei loro progetti per ora ci sono andati in coalizioni e sono sempre stati molto condizionati che è un grande limite anche della loro azione politica cioè non riescono a sfondare in maniera tale da poter proporre nella pratica l'essenza dei loro programmi è un bene è un male ovviamente ciascuno la pensi come vuole è un dato grazie grazie al professor Tarchi per la sua relazione e alcuni spunti in realtà io li riproporrei già venendo meno alla promessa fatta prima nel senso che ospite scomodo della democrazia quindi un populismo più ombra meno spettro in questo senso d'altra parte la crescita dei fenomeni populisti anche da un punto di vista elettorale spesso è stata sottolineata come evidente negli ultimi anni e negli ultimi decenni almeno negli ultimi vent'anni forse questo è uno degli vari spunti che vengono ripetutamente sottolineati anche dai mezzi di comunicazione di massa forse in questo senso ha inciso una venuta meno di quelle ideologie come il marxismo o altre anche le ideologie di senso più conservatore posto che appunto il nostro paese si pone in una situazione del tutto peculiare sotto questo punto di vista quindi ha inciso il tramonto di queste ideologie sullo sviluppo su riemergere della mentalità populista questo era un primo spunto il secondo spunto è sui populisti cosiddetti al governo che cosa possiamo dire perché in Italia non si sono avute esperienze di questo tipo o almeno sono molto peculiari la questione di battuta forse facendo agio sul sul fatto che si sono avuti però in contesti al di fuori di quello italiano forse possiamo dire qualcosa anche a tal riguardo qualche spunto forse c'è anche in questo senso rapidissimamente ovviamente non voglio togliere spazi certamente il primo aspetto è da sottolineare la caduta diciamo dei grandi progetti ideali di costruzioni di società alternative o anche la caduta giustamente riferimento da quello anche al polo conservatore chiamiamolo così o anche la progressiva il progressivo svuotamento di alcuni filoni culturali che più che a innovare radicalmente la società puntavano a tenere fermi alcuni principi che si sono andati sgrettolando nel tempo hanno favorito la promozione di attori politici in grado di sfruttare questa mentalità torno a un punto che non ho volutamente toccato per mancanza di tempo e non c'è neanche adesso ma solo per accenno ovvero la mentalità populista a mio parere si può collocare in diversi punti della geografia politica a parte il fatto che anche qui non bisogna eccedere perché se facessimo un incontro tutto sul problema di chi definire proprio come soggetti populista ne avremmo da discutere dall'inizio alla fine quindi su certe etichettature che vengono date io sono piuttosto scettico e tendo più a restringere il campo che non allargarlo però alcuni fenomeni di populismo anche negli stessi paesi bilaterale secondo me ci sono lancio un'amichevole provocazione a Yves Meunee beh insomma come dire certo Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon sono due soggetti politicamente molto lontani ma a mio parere ci sono dei fondamenti di tipo populista piuttosto forti nel discorso politico sia dell'una che dell'altro ci sono credo indiscutibilmente ne parlavo con vari ricercatori che stanno compiendo degli studi sul campo su questo ci sono degli elementi marcati di populismo in Podemos anche se chiamiamola così per semplicità non è correttissimo la corrente populista ha perso il congresso recente a vantaggio diciamo di una corrente più vicina alla sinistra radicale più classica e quindi il progetto populista in quanto tale di primo Podemos sembrerebbe ora in arretramento però questo dato cosa ci dice ci dice che queste spinte possono nascere in punti diversi della geografia politica perché gli attori politici di tutte le parti hanno perso fortemente una capacità di convinzione di una componente quantitativamente molto forte degli elettorati nazionali ovvero delle opinioni pubbliche nazionali quindi noi abbiamo gradazioni diverse di populismo in questo senso ma anche connotazioni diverse per dire casi o fenomeni in cui mi ho fatto riferimento in qualche ricerca più o meno attentamente ma noi mettiamo lo stesso sacco quelli che ho citato ora il Front National la FPÖ in Austria il Partito della Libertà di Wilders e per dire e anche i veri finlandesi o altri ognuno di questi ha una sua fisionomia dal punto di vista del rapporto del rapporto destra sinistra anche i casi italiani assimilabili alla categoria su uno io ho scritto di essere scettico e continuo ad esserlo sia pure in misura diversa perché le ultime cose che ho scritto su questo che salgono due anni fa c'è stato il cambiamento ma insomma il caso del Movimento 5 Stelle per me non è perfettamente assimilabile ancora al discorso politico di Beppe Grillo che quello sì è comprovatamente populista al 100% il Movimento a volte oscilla e quindi io non me la sento ancora di definirlo completamente tra la Lega Nord è un caso di populismo per dire e questo ci porta secondo elemento dei suoi stimoli la questione dei populisti al governo per esempio poco tempo fa ho con altri colleghi invitato nella mia università un collega italiano che da tanti anni insegna a Birmingham Daniele Albertazzi che ha scritto insieme a un altro collega Duncan McDonnell un volume sui populisti al potere la sua opinione è che nei casi in cui i populisti sono stati al potere soprattutto in senso in coalizioni di governo la Lega Nord in Italia ma anche secondo lui in una certa misura vabbè poi c'è il caso svizzero ma è a sé stante ma anche diciamo la FPE haideriana prima della frattura nel breve periodo della frattura quando è andata al governo con i popolari in Austria molto meno la lista Pim Fortin in Olanda perché quando è andata il governo suo leader carismatico era stato appena ucciso e quindi si è spaccato immediatamente però secondo lui hanno inciso effettivamente sulle politiche governative creando dei presupposti di una politica populista io su questo non sono molto d'accordo e credo che su molti aspetti siano veramente andati a traino e abbiano fatto una politica di annunci la stessa Lega cioè come dire abbiamo ottenuto questo ma in realtà secondo me c'era molto poco dietro perché i populisti sono condannati almeno per ora paiono condannati a questo dato non ce la fanno da soli a vincere un'elezione in contesto europeo quindi vanno in coalizione sono junior partners non sono quelli che danno le carte prendono le carte ma non le danno e quindi tutto sommato debbono accontentarsi degli scarti quindi perdono fascino agli occhi dei loro elettori che dicono ma come vi abbiamo messo lì e voi dovete fare ora qui e chiudo subito si aprirebbe la voragine del caso extraeuropeo di Donald Trump che è molto anomalo però per molti rientra nei canoni del populismo la sua retorica ci rientra perfettamente vedremo la sua politica è chiaro che lì il caso con tutti i condizionamenti del sistema costituzionale statunitense eccetera eccetera però come dire lì se alla retorica corrisponde anche in base alla mentalità una volontà di politiche populiste questo lo vedremo come funzionerà però per ora non possiamo dirlo grazie grazie professor Tarchi bene abbiamo iniziato il nostro percorso di avvicinamento al fenomeno democratico la democrazia democrazia che nel nostro caso è democrazia rappresentativa ma non solo anche democrazia costituzionale e questo pone alcuni vincoli direi alla stessa mentalità populista perché mentalità populista si dice che fa spesso riferimento al popolo come entità mitica entità da valorizzare entità da ascoltare da rispettare e da valorizzare nei processi di governo i problemi però qui sono molti nel senso che le democrazie contemporanee sicuramente non sono assetti istituzionali semplici come quelli che avevamo anche solo nel 1800 nel diciannovesimo secolo i processi decisionali pubblici non seguono direttrici dettate dai ministeri le politiche pubbliche sono processi nei quali avviene la compartecipazione di soggetti diversi e così anche la stessa democrazia si è evoluta con il tempo a partire dalla seconda guerra mondiale lo stesso assetto istituzionale democratico si è risorto sopra il valore della costituzione valore costituzionale che ha incorporato in sé il cosiddetto nucleo duro il nucleo di valori di diritti un nucleo di norme e disposizioni che nessuna maggioranza nemmeno quella del popolo può modificare se non violando i stessi presupposti della democrazia costituzionale questo è un vincolo è una situazione è un assetto rispetto a quale i populisti o le forze che si dichiarano tali o le forze che vengono tacciate come tali devono comunque confrontarsi e lo stesso concetto di populismo qui fa in realtà agio su una parte di questo assetto costituzionale che è la divisione tra rappresentanti e rappresentati che solo a partire da quanto diceva Max Weber all'inizio del 1900 spesso è oggetto anche a fenomeni plebiscitari e qui abbiamo un problema capire che cos'è il populismo che cos'è un fenomeno plebiscitario e come si pongono in relazione all'assetto democratico di questo forse ci parlerà la professoressa Pazè che ringrazio anch'io ringrazio gli organizzatori ringrazio l'uditorio e sono molto contenta di avere l'occasione di questo dialogo con due autorevolissimi studiosi sul tema inizio anch'io col dire perché è emerso da queste prime minuti di discussione che il populismo è un termine che divide è un termine su cui c'è disaccordo inflazionato abusato stiracchiato da tutte le parti per coprire i fenomeni più diversi è stato detto l'Italia non ha conosciuto un populismo al governo il professor Tarchi poi ha detto ma la Lega forse ma viene anche in mente Berlusconi forse che è stato interpretato da autorevoli studiosi come un caso di populismo di governo e potremmo avere qualche dubbio anche su Renzi sul renzismo in ogni caso per sciogliere questi dubbi bisogna ancora una volta cercare di fare chiarezza sul nostro modo di usare le parole non ce n'è uno giusto uno sbagliato si tratta insomma di usarle in modo da capirsi dopodiché non voglio sfuggire alla domanda mi sembra molto importante il tema del nesso che esiste tra populismo e democrazia costituzionale per un verso e rappresentativa per l'altro ma per arrivarci capiamoci su come intendiamo questa parola perché se no e dunque considerazione iniziale se leggete i giornali se ascoltate la televisione la radio e quant'altro davvero oggi populismo viene usato come un corpo contundente e viene usato per qualificare qualsiasi movimento di protesta nei confronti dell'Europa in certi casi qualsiasi qualsiasi movimento di protesta e di critica nei confronti dei privilegi della classe politica qualsiasi mobilitazione dal basso talvolta allora mi sembra che questi siano usi abusivi che non è affatto detto che protestare contro un certo assetto dell'Unione Europea o anche contro l'Euro sia per definizione populismo come possiamo dare restituire a questa parola un significato plausibile su questo moltissimi politologi hanno lavorato è stato detto io vorrei provare a proporre una ridefinizione partendo da lontano anche perché la parola populismo è recente risale alla fine dell'ottocento è una parola dell'essico moderno ma non è detto che ciò che questa parola designa sia invece così recente e proprio per ragionare sul nesso tra populismo e democrazia penso che possa essere utile ripartire da un classico come Aristotele penso che sia ricavabile da un passo straordinario di Aristotele del quarto libro della politica un idealtipo un modello idealtipico di populismo certo Aristotele non usa la parola populismo usa altre parole però insomma un idealtipo che poi non è tanto distante da quello che è stato elaborato da molti politologi molto brevemente quarto libro della politica analisi di diverse forme di democrazia quindi si ragiona non su stili politici né su mentalità proprio di forme di governo Aristotele ragiona su una possibile variante una possibile forma di democrazia che è la democrazia demagogica però insisto la letteratura sulla demagogia nell'antichità è foltissima ma in questo caso c'è qualcosa di più non c'è solo la retorica dei demagoghi ma c'è una particolare variante della democrazia e qui io vi propongo una definizione di populismo come un particolare modo di concepire il ruolo del popolo in democrazia se vogliamo un particolare modello di democrazia quali sono i tratti della democrazia e dei demagoghi in Aristotele primo è quella forma di democrazia in cui il popolo è sovrano e non la legge questo in un contesto l'Atene del IV secolo in cui invece vigeva il principio del primato della legge del nomos sui decreti dell'assemblea quindi sulle decisioni del popolo sovrano nella democrazia dei demagoghi succede quello che era successo alla fine del V secolo ad esempio che i generali delle isole arginuse vengono condannati in blocco dall'assemblea a morte contro la legge che prevedeva che non fossero possibili dei giudizi di condanna in blocco senza considerare le posizioni personali secondo elemento la democrazia demagogica si caratterizza dice Aristotele perché in essa i molti sono sovrani non come singoli ma come totalità il popolo agisce come un tutto e c'è un esempio illuminante un riferimento all'Iliade e in particolare a un passaggio dell'Iliade in cui viene descritta una scena di isteria di massa sono i guerrieri Achei che di fronte ad Agamennone che ingannandoli gli fa credere fa credere loro che sia finita la guerra corrono verso le navi esultano e non sentono ragioni e in vano vengono si tenta di fermarli e di ricondurli alla ragione una scena che ricorda quelle che studieranno nell'ottocento gli psicologi delle masse quindi il popolo che agisce come un tutto non come la somma di tanti cittadini un'immagine molto diversa da quella idealizzata ovviamente che ci viene dal pericle tucidideo quello di un popolo in assemblea che prima discute e poi decide perché noi pensiamo che la discussione non sia una perdita di tempo ma sia un modo per decidere bene questo è il secondo aspetto terzo aspetto ovviamente i demagoghi quindi la presenza di personaggi sono allora i oratori in grado con la loro eloquenza di spingere il popolo ad esempio a condannare i generali delle isole arginuse che probabilmente erano innocenti e che in ogni caso in seguito a quella condanna faranno sì che l'Atene repatisca la disfatta nella guerra del penoponneso a questo proposito sono interessanti le notazioni di Aristotele che ci dice che viene a crearsi un rapporto peculiare di circolarità tra il popolo e i demagoghi scrive Aristotele il popolo è padrone di tutto e i demagoghi sono padroni dell'opinione del popolo che obbedisce loro quindi il popolo è padrone di tutto ma i demagoghi guidano il popolo lo manovrano lo sospingono Palatone aveva inventato un termine molto molto efficace per esprimere questa idea di direzione della psiche delle masse il termine psicagogia psicagogia insomma una situazione in cui non si capisce più se in realtà il flusso del potere è ascendente dal basso verso l'alto o discendente tanto che Aristotele commenta questa forma di democrazia assomiglia un po' alla tirannide a dire il vero ulteriore notazione di Aristotele ha a che fare con le strategie che usano i demagoghi per affascinare per sedurre il popolo che consistono nel adularlo la demagogia come adulazione del popolo come arte del dire ai cittadini ciò che amano sentirsi dire ripetere i loro pregiudizi i loro stereotipi assecondare le loro paure i loro desideri in modo che vi sia questa corrispondenza tra popolo e leader e dunque Cleone il demagogo per antonomasia della letteratura greca che usa queste arti seduttive se noi partiamo da qui e parliamo di populismo possiamo vedere che queste tre caratteristiche sono quelle che a me sembrano poter comporre una definizione minima ma tuttavia insomma con un qualche valore conoscitivo di populismo primo assolutizzazione del principio democratico è stato detto è vero che il populismo è l'ombra della democrazia o è stato detto è una sorta di parassita della democrazia si fonda sullo stesso principio di legittimazione la sovranità popolare e tuttavia articolo 1 della costituzione italiana la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione quindi ci sono due modi di interpretare la sovranità popolare un modo fondamentalistico che la assolutizza il popolo ha sempre ragione deve sempre avere l'ultima parola oppure in una democrazia costituzionale che era il tema che era stato posto l'esistenza di vincoli a garanzia dei diritti secondo aspetto la concezione del popolo come un tutto indifferenziato come una comunità immaginata priva di articolazioni interne che va di pari passo con la costruzione di una frontiera esterna qualcuno fa parte del popolo qualcuno non ne fa parte le caratterizzazioni qui possono essere le più varie il professor Meni ha invitato a distinguere le tre varianti il popolo sovrano l'accezione politica di popolo il popolo classe l'accezione socio-economica il popolo nazione quindi il popolo può essere la comunità può essere immaginata in modo diverso e sono poi i tre termini greci per dire popolo demos pletos etnos ma in ogni caso c'è l'idea della massa omogenea e indifferenziata e ci sono partiti che si auto rappresentano non come parti i partiti questo sono stati dovrebbero essere lo dice la parola parti l'espressione di un particolare progetto politico e ideale i partiti populisti invece si auto rappresentano come il tutto il partito della nazione il front nazionale il popolo della libertà forza italia tutta l'italia che evidentemente vuol dire noi siamo tutto e al di fuori di noi c'è chi non fa parte del popolo della nazione e della comunità terzo aspetto la forte personalizzazione della politica è il rapporto tra leader e massa tra un leader e un popolo un popolo che è chiamato a riconoscersi e a identificarsi appunto in un leader che si rivolge direttamente al popolo senza tutte quelle mediazioni che sono tipiche della democrazia rappresentativa mediazioni istituzionali il parlamento un'assemblea in cui tutte le componenti della società sono rappresentate ma anche i partiti politici i sindacati i corpi intermediche così come il giornalismo indipendente che fa da filtro rispetto alla comunicazione diretta tra il leader e il popolo che può voler dire tante cose una volta voleva dire la piazza il leader è appunto il suo auditorio oggi può voler dire la televisione Berlusconi che confeziona le cassette le videocassette che vengono trasmesse in televisione ma anche il blog di Grillo ma anche Matteo risponde tutte modalità di comunicazione unidirezionale da uno a molti in cui si saltano i passaggi si saltano le mediazioni invece tipiche della democrazia rappresentativa e poi certo se vogliamo c'è anche l'elemento di colore l'elemento più stilistico però di nuovo insisto non ridurrei a questo il populismo anche se pur sempre c'è questo elemento ed è lo stile il tipo di oratoria il modo in cui il leader si presenta strizzando l'occhio al popolo presentandosi come uno del popolo anche quando è un miliardario Pierandè Taghief con riferimento a Heider aveva sostenuto che aveva una nuova categoria era sorta quella del tribuno proletario miliardario così come possiamo pensare al Berlusconi in campagna elettorale presidente operaio ma possiamo pensare a molti altri esempi di esponenti di una classe politica che si presentano come persone semplici come persone che sono del tutto così alla pari della gente comune se assumiamo questa definizione minima di populismo che a me sembra abbia una qualche plausibilità di nuovo riassumo un particolare modello di democrazia a cui alcuni partiti alcuni movimenti alcuni regimi si ispirano che si contraddistingue per l'insofferenza nei confronti dei limiti e dei vincoli costituzionali per la costruzione di un popolo immaginario che parla con una sola voce che avanza richieste univio che è semplici dettate dal buonsenso e infine il rapporto diretto tra leader e popolo la mia tesi è che si possa sostenere che questa accezione di populismo è non l'ombra della democrazia o lo spettro è semplicemente l'antitesi della democrazia o perlomeno della democrazia costituzionale e rappresentativa di quel modello di democrazia che è venuto affermandosi nel secondo novecento in particolare in Europa sto parlando di tipi ideali poi i movimenti i partiti i regimi reali potranno come è stato detto avere alcuni tratti di questo tipo ideale perché l'antitesi della democrazia rappresentativa costituzionale perché questa si fonda proprio sui principi opposti primo relativizzazione del principio democratico l'ho già detto sovranità popolare ma nelle forme nei limiti della costituzione Donald Trump emette il bando contro i musulmani ma c'è un giudice ci sono dei giudici che lo fermano il governo Renzi fa votare con la fiducia l'italicum ma la corte costituzionale stabilisce che una sua parte qualificante è incostituzionale quindi democrazia costituzionale secondo aspetto la democrazia rappresentativa così come è stata teorizzata ma non solo teorizzata istituzionalizzata nel secondo novecento in Europa supera la concezione organicistica del popolo certo che nella nostra costituzione si parla di popolo ma l'unità del popolo è un'unità in senso giuridico in senso fittizio in senso artificiale la realtà è diversa ed è quella della scomposizione del popolo in tante parti appunto pluralismo sociale e politico che si esprime attraverso i vari partiti che dovrebbero essere associazioni di cittadini che si ispirano a diversi ideali a diversi progetti di società e entrano legittimamente in conflitto tra di loro perché conflitto ha a che fare con la democrazia e la democrazia serve a far sì che il conflitto si svolga in modo non violento e culmini in un compromesso l'idea di compromesso che è centrale nella teoria della democrazia di Kelsen Hans Kelsen che è uno dei più grandi teorici della democrazia del novecento è un'idea a cui tutti i populismi sono allergici perché invece lì la prospettiva è diversa anche se poi capita ovviamente che siano costretti a venire a patti terzo aspetto di nuovo mi rifaccio a Kelsen Kelsen sosteneva la democrazia è assenza di capi quindi non l'elezione del capo l'elezione del premier del presidente della repubblica del capo del governo ma assenza di capi e se questo ideale è troppo alto e se deve essere temperato e conciliato con l'esigenza della divisione del lavoro attraverso l'istituzione della rappresentanza allora diceva Kelsen se non è assenza di capi se non può davvero esserlo è però l'esistenza di un gran numero di capi che cosa voleva dire voleva dire che in democrazia l'organo sovrano è il parlamento un organo policefalo con tante teste che in quanto tale e Kelsen pensava un parlamento eletto con un sistema rigorosamente proporzionale un parlamento che in quanto organo policefalo rappresenta il popolo nella sua pluralità rappresenta le varie componenti dando a ciascuno la visibilità proporzionale a quella che è la presenza effettiva nella società mentre invece non può rappresentare la pluralità delle nostre società un organo monocratico un presidente eletto direttamente dal popolo che potrà rappresentare la comunità solo simbolicamente ma non potrà davvero rappresentare le varie componenti naturalmente mi si potrà dire che questa non è l'unica concezione di democrazia possibile lo so bene può sembrare una concezione insomma superata soprattutto nel nostro paese altre concezioni della democrazia si impongono Mauro Calise ha scritto e pubblicato di recente un volumetto intitolato la democrazia del leader che è una ripresa di un modello che poi quello di Duvergier la democrazia di investitura o quella che anzi Duvergier diceva la democrazia immediata o quella che Leopoldo Elia diceva la democrazia di investitura insomma la democrazia ridotta alla elezione del capo del governo bisogna però interrogarsi sulla natura di questo oggetto qualcuno ha sostenuto Michelangelo Bovero che forse la democrazia del leader dovrebbe essere più propriamente chiamata autocrazia elettiva più che democrazia mentre invece la democrazia quella disegnata nella nostra costituzione è altra cosa e si basa sulla centralità del Parlamento e non sulla elezione dell'organo di governo detto questo oggi è in dubbio che c'è un problema di svuotamento degli organi democratici il tema è già stato toccato non solo di svuotamento degli organi democratici a causa di leggi elettorali manipolative a causa dello spostamento del baricentro del potere dai parlamenti ai governi anche e più sostanzialmente a causa dello spostamento del baricentro del potere dagli stessi governi a organi sovranazionali che assumono le decisioni senza avere una legittimità democratica di fronte a questo tipo di evoluzione sicuramente c'è chi sostiene che il populismo può rappresentare un correttivo una forma di bilanciamento l'introduzione del principio dell'autogoverno popolare che dovrebbe temperare invece le chiusure oligarchiche a cui stiamo assistendo io penso che non sia così mi sembra che al contrario elitismo l'elitismo possa andare molto bene a braccetto col populismo possa trarre una sorta di legittimazione quella legittimazione che gli manca di cui ha bisogno proprio dal populismo e credo che attorno a noi vediamo forme di governo di pochi sostanzialmente elitarie che però si fondano sul appello al popolo penso invece che l'alternativa al populismo sia una democrazia riempita di contenuti rappresentativi il che significa assemblee rappresentative che riprendono il loro primato sugli esecutivi e anche associazioni partiti movimenti corpi intermedi insomma società che si auto organizza per evitare che la politica sia ridotta a questo dialogo che non è un dialogo tra il leader e le masse mi fermo qui grazie professoressa Pazzè per il bellissimo quadro che quadro analitico che ha descritto anche per ragioni di tempo qui sono numerosi gli spunti che emergono da questa analisi forse questi tenderei poi a raccoglierli magari assieme a qualche domanda per dopo comunque tra i suoi spunti emergeva già il fatto di questa trasformazione anche del fenomeno democratico fenomeno democratico non più limitato alla dimensione nazionale ma fenomeno democratico che si è voluto verso nuovi istituti nuove forme tra i quali ad esempio quelle dell'Unione Europea e qui allora si pone un altro problema cioè il rapporto tra il fenomeno populista che come ha espresso il professor Menì in alcuni suoi scritti forse è un retaggio addirittura di una concezione della democrazia nazionale e rivolversi della stessa democrazia verso nuove forme e a questo punto l'antitesi tra populismo democrazia costituzionale e democrazia rappresentativa va verso mete ignote che speriamo che il professor Menì ci descriverà grazie allora vorrei forse cominciare con una una storiella immaginiamo un tempo e un paese dove ci sono grandi innovazioni tecnologiche c'è un boom dell'economia e c'è anche un boom delle comunicazioni c'è un boom del commercio internazionale grazie a delle politiche di libero scambio c'è un arricchimento enorme di alcuni paesi e un divario sempre marcato fra direi i più ricchi e i più poveri c'è una forte immigrazione c'è speculazione diseguaglianza c'è corruzione degli élite e c'è collusione fra élite politiche ed economiche c'è una corruzione e una chiusura su se stessa di partiti politici che si sono cartellizzati cioè che hanno cercato di impedire l'entrata di nuovi membri suppongo che avete quasi tutti pensato ci siamo è la situazione odierna no la situazione che ho tentato di presentare in termini abbastanza generali è la situazione degli Stati Uniti negli anni 1880 90 e a quest'epoca nasce in questo paese negli Stati Uniti il primo movimento populista della storia grande movimento populista e fino a direi 15-20 anni fa l'Europa per esempio non aveva quasi nessun esempio di populismo dunque dobbiamo forse interrogarsi sul perché della nascita di questo nuovo fenomeno almeno per noi e a questo punto bisogna di nuovo fare un po' di storia fino alla fine dell'Ottocento i filosofi parlano di democrazia ma direi che da Aristotele fino a Montesquieu e Rousseau e altri tutti pensano che la democrazia è il regime superiore per eccellenza ma purtroppo è impossibile di attuarlo in nazioni grandi per esempio Russo dice la democrazia si potrebbe fare in Corsica penso che non era mai andato in Corsica ma dunque lui pensava che dunque il modello che esiste da Aristotele fino alla rivoluzione americana e francese è un modello di democrazia piccola perché tutti hanno nel pensiero l'idea della della popolazione che si mette sulla piazza che discute che decide eccetera e questo modello non è non è estensibile ai paesi grandi e succede succedono le due rivoluzioni americana prima francese dopo che non hanno per obiettivo di creare la democrazia hanno per obiettivo o l'indipendenza o diciamo un regime moderato per resistere per opporsi all'assoluttismo monarchico e dunque le due queste due queste due rivoluzioni creano non delle democrazie creano delle repubbliche e poco a poco la democrazia entra in questo nuovo regime e diventa in un certo modo la democrazia diventa prigioniera della culla nel quale nasce e questa culla è prima di tutto la nazione perché il popolo si parla del popolo e c'è bisogno di parlare del popolo perché i francesi una volta tagliato la testa del re hanno bisogno di incarnare la sovranità da qualche parte stesso problema per i costituzionalisti americani che hanno bisogno di giustificare il colpo di stato che hanno fatto creando la federazione era previsto prima della federazione che tutti i stati membri dovevano approvare la nuova costituzione americana e la dotano non all'unanimità ma alla maggioranza e per questo che la costituzione americana comincia con queste tre meravigliose parole we the people e poco a poco nasce qualcosa che Tocqueville 50 anni dopo 60 anni dopo chiamerà la democrazia americana della democrazia in America e i francesi hanno esattamente lo stesso problema tranne che cercano di dare questa sovranità alla nazione ma in due casi sono prigionieri della culla nazionale la democrazia è concepita come un sistema politico nazionale con il popolo della nazione e le conseguenze nell'ottocento sono abbastanza semplici il popolo è spesso ristretto dunque è il popolo degli elite in realtà cioè chi governa sono gli elite è un popolo bianco i neri sono messi da parte è un popolo maschio se le donne cominciano a votare allora siamo rovinati dunque ci vorrà aspettare la seconda guerra mondiale in Italia e in Francia per definire il popolo come il popolo dei maschi e delle donne dunque la lezione da trattare da questo è uno la democrazia si è inventata poco a poco la democrazia americana di Tocqueville non è assolutamente una democrazia secondo i standards di oggi odierni assolutamente no dunque la democrazia si fa camminando due la democrazia è imperfetta e si corregge ogni tanto e terzo la democrazia è quasi sempre in crisi quasi sempre perché propone un regime ideale e di fatto non lo è allora ci sono un sacco di rivoluzioni di movimenti che propongono di avvicinarsi a una democrazia che sia più ideale sarà per esempio la democrazia socialista o sarà una democrazia più partecipativa o soprattutto dopo la seconda guerra mondiale no forse dopo la prima guerra mondiale si affermano in modo più decisivo i diritti i diritti che perché i diritti sono stati proclamati sia negli Stati Uniti che in Francia alla fine dell'Ottocento ma questi diritti erano praticamente come una lettera morta non avevano realtà invece dopo la prima guerra mondiale si comincia a dare un significato concreto la libertà di pensiero la libertà di aggregarsi la libertà di manifestare la libertà di fare sciopero eccetera sono delle libertà concrete che iniziano un secolo quasi dopo le rivoluzioni dopo la seconda guerra mondiale la democrazia diventa anche una democrazia più sociale con l'acquisizione del welfare state e alla fine degli anni 50 60 un po' prima in Germania dopo in Italia e adesso quasi dappertutto in Europa una vera democrazia costituzionalista emerge cioè le corte costituzionali sono in grado di il risultato è che abbiamo oggi alla volta una democrazia molto più perfetta da prima ma nello stesso tempo abbiamo una democrazia che ha una grande difficoltà di funzionamento perché perché la crescita dei diritti collettivi e individuali il diciamo il potere della norma piuttosto che il potere del popolo è un principio molto bello ma siamo in una situazione oggi dove le norme diventano talmente numerose e talmente costituzionalizzate che la capacità parlamentare per esempio è stata molto limitata e abbiamo un problema in più le norme oggi sono per una grande parte delle norme internazionali europee ma anche sovranazionali e sovranazionali per esempio se vogliamo far partire dell'Unione Europea non possiamo più praticare la pena di morte è un biglietto di uscita immediato dell'Unione Europea pensiamo forse tutti che sia un bene ma questa immagine per dire che il campo lo spazio della politica si è molto ristretto e invece i politici quando fanno campagna elettorale pretendono farò questo farò questo farò quello e non lo possono non lo possono più dunque siamo in una situazione critica nel quale la democrazia sognata non funziona più la democrazia del popolo non funziona più perché lo spazio costituzionalista o lo spazio lasciato agli esperti dalla banca centrale ai giudici alle corti costituzionali alle autorità indipendenti tutti tutti questi spazi sono stati tolti alla politica la politica non può più e allora la politica ha sempre avuto una doppia legittimità la legittimità del voto in inglese l'input quello cioè il carburante il carburante che permette alla democrazia di essere considerata come democratica ma non basta il carburante per fare una bella macchina la bella macchina deve anche andare avanti deve produrre deve correre e invece i sistemi politici odierni in Europa hanno sempre più difficoltà a produrre dei risultati i partiti politici non sono più in grado di fornire quello che hanno promesso e questo divario fra promesse elettorale fra restrizione della politica per ragioni interne i diritti e per ragioni esterne cioè le norme sovranazionali esterne questo divario crea una delle crisi maggiore della democrazia e di nuovo ne abbiamo conosciute altre crisi abbiamo avuto le brigate rosse in Italia abbiamo avuto la guerra d'Algeria in Francia abbiamo sempre avuto delle crisi perché siamo alla ricerca di questo modello perfetto il populismo si inserisce in questa fase di malcontento di un malcontento che diventa frustrazione che diventa rabbia in Francia in questo momento c'è la metà della popolazione che è pronta per votare per un populista di destra o uno di sinistra 50% della popolazione che non vuole più votare per i partiti di destra o di sinistra e probabilmente avremo per il secondo turno delle elezioni due outsider la Le Pen che è stata sempre scartata da tutti i partiti politici e Macron che ha una strategia quasi golista cioè mi presento e vi propongo un'altra forma di organizzazione democratica dunque il populismo è in un certo modo la manifestazione di questa crisi e della ricerca di una democrazia migliore ma purtroppo e per riprendere la domanda che sta lì sullo schermo io non credo che sia una emergenza democratica io credo che in confronto con il modello che abbiamo seguito da ormai due secoli sarà una regressione democratica perché perché uno non abbiamo un solo esempio storico di democrazia funzionante basata sulla democrazia diretta non ne abbiamo uno due le proposte populiste sono delle proposte che ci riportano a quello che chiamerei un specie di primitivismo sociale e politico cioè soltanto le società primitive o poche moderne propongono che il popolo sia un'entità totale unica no siamo diversi dunque il populismo ha nelle geni un atteggiamento antipluralistico perché c'è il popolo e poi ci sono le elite che sono corotte che sono incapaci eccetera e dunque questa totalità del popolo si traduce anche in politiche concrete basta osservare Trump e il suo atteggiamento per esempio in confronto con le migrazioni non dico che non sia un problema facile ma l'atteggiamento politico ideologico è quello di dire è quello della Le Pen o anche quello di Sarkozy quando ha detto che tutti i francesi dovrebbero sentirsi i figli dei Golois lui che è un padre ungherese e una moglie italiana sono tutti decedenti dei Golois sono discorsi fasulli che non corrispondono per niente alla sociologia e alla realtà dei popoli di oggi poi è la prevalenza della voce del popolo sulle norme e sappiamo come perché abbiamo conosciuto per esempio anche in Francia nella nostra storia questa prevalenza del popolo e il popolo che portava le teste tagliate su sulle picche perché le persone erano state giudicate in furia e fretta vivi un giorno morti successivo dunque dobbiamo ritrovare lo spirito che era quello di Madison nella Costituzione americana cioè temere la tirania della maggioranza la tirania della maggioranza secondo la sua formulazione e per evitare la tirania della maggioranza ci vuole i checks and balances ci vuole dei limiti ci vogliono dei diritti e la cosa bella in un certo modo è che abbiamo sotto gli occhi la realizzazione di questa tensione con Trump che ha promesso tutto per tutti durante la campagna elettorale prende delle decisioni che ricordano anche un uomo politico firmo e ho preso delle decisioni eccetera purtroppo i sistemi sono più complessi di quello che hanno detto e di fatto Trump si deve ormai rimangiarsi tanti elementi del suo discorso ma c'è una cosa importante da sottolineare durante un secolo 120 anni gli americani non hanno mai eletto un presidente populista anche nel momento più alto del populismo americano cioè alla fine dell'ottocento i candidati populisti sono stati emarginati per la prima volta per la prima volta gli Stati Uniti hanno eletto un candidato populista che si è imposto prima di tutto al partito repubblicano e poi che ha vinto e lì faccio una parentesi ironica perché i partiti politici europei in crisi alla ricerca di ricette di ricette nuove hanno hanno importato senza riflettere troppo le primarie hanno dimenticato che le primarie sono state inventate dai populisti negli Stati Uniti per distruggere il potere dei partiti americani il partito repubblicano e il partito democratico il monopolio di questi partiti nella scelta dei candidati e hanno inventato le primarie con il risultato che quando le primarie si sono finalmente imposte dappertutto perché ci sono 50 sistemi elettorali diversi negli Stati Uniti la politica è organizzata a livello statale finalmente quando le primarie si sono imposte in quasi tutti i stati americani allora le primarie hanno prodotto il loro effetto pieno l'elezione di Trump e i partiti americani cioè repubblicano democratico c'era una versione un po' populista di sinistra con Sanders e dunque i partiti politici americani sono delle conchiglie vuote e lo stesso sta succedendo in Europa il partito democratico è un buona salute ho dei dubbi grazie alle primarie in parte il partito socialista ha fatto delle belle primarie esplode il partito dei repubblicani francesi ha organizzato delle primarie magnifiche tutti contenti perché era come una guillottina simbolica hanno tagliato la testa Sarkozy a Juppé Hollande non si è neanche candidato a sinistra Valls è stato ucciso e alla fine viene un putifero e dopo domani cioè dopo le elezioni se Fion come è probabile non corre per il secondo turno vedrete esplodere il partito repubblicano il partito di destra dunque le primarie questa invenzione populista gioca a pieno non soltanto negli Stati Uniti ma adesso dunque e concludo con questo i partiti populisti per il momento hanno poca influenza istituzionale tranne negli Stati Uniti e tranne con questa importazione volontaria delle primarie hanno poco un'influenza abbastanza marginale sulle politiche pubbliche perché sono sempre dei junior partners ma sono determinanti nell'agenda politica cioè sono loro che dettano le tematiche politiche specialmente visto che le ideologie sono sparite e poi non dimentichiamo i populisti hanno vinto in Inghilterra UKIP ha un deputato un deputato ma ha imposto il tema dell'uscita dell'Unione Europea e ha vinto dunque non dobbiamo sottovalutare la capacità di distruggere dei partiti populisti anche se ho poco fiducia nella loro capacità di costruire e di far funzionare bene una vera democrazia grazie grazie a professor Menì per il suo intervento e a questo punto raccoglierei qualche domanda stringata se possibile faccio una domanda breve nel senso che secondo me non si può parlare di populismo ma di populismi i populismi erano legati al nel passato della Sud America a dei movimenti totalitari quindi vedevano nello Stato la massima espressione il populismo che abbiamo adesso è un populismo che si rifà all'individualismo a un individualismo che è di una società atomizzata quindi è molto diverso secondo me la domanda è si può parlare di populismo o di populismi i populismi legati ai totalitarianismi o i populismi legati a una società individualista dunque premetto che non c'ero a tirare le monetine a craxi non ero fra quelli però vent'anni dopo io mi pento un po' di aver solidarizzato con coloro i quali hanno tirato le monetine a craxi perché se guardo la seconda repubblica guardo a come funzionava la prima repubblica io chiedo alla signora ma sono convinto della sua risposta che la prima repubblica era molto più democratica buonasera io volevo chiedervi se non riteniate che la una tendenza populista non sia ormai generalizzata nei modelli della proposta politica contemporanei e se questa non sia in qualche modo l'inevitabile conseguenza della mediatizzazione della politica al punto che oggi parliamo di sondocrazia parliamo di campagna elettorale permanente di un inseguimento quotidiano del consenso se non sia anche una conseguenza di questo fenomeno grazie velocissimo frank la lasciamo andare perché ce ne vai perché è da fare bravo poi te lo racconto senta allora io penso che il populismo queste cose qua non sono inventate adesso già Alexis de Tocqueville parlava che la democrazia era facile e preda del populismo ed era il vero rischio allora il problema è che il populismo bisogna collegarlo altre due parole uno è la demagogia e l'altro il qualunquismo è un trittico indissolubile e la demagogia e il qualunquismo nascono nei momenti di crisi ma questa crisi non è figlio del nulla non arriva come le guerre non sono perché piove fa sole c'è la guerra cioè noi qui abbiamo parlato di tutto ma non abbiamo parlato di un bellissimo di un bellissimo manufatto ma non abbiamo parlato del suo contenuto cioè che è l'economia cioè come se tutte queste cose che noi viviamo arrivassero non so da un'altra galascia in realtà io scusate dovete scusarmi ho un ho un'educazione particolare che risale al novecento e secondo me questo è il portato di un processo di accumulazione di denaro di accumulazione e quindi di capitali di accumulazione di forza lavoro cioè disoccupazione e di accumulazione di merci questi sono i tre motivi principali per cui ci fu la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale cioè questa elite che non sono i partiti di cui sono solamente dei teatranti non penseremo che Reagan fosse un genio Reagan era era un piccolo attore è stato un pessimo presidente ma non era nessuno Reagan cioè come non sono nessuno prevalentemente i politici in sintesi la conclusione è questa quindi il mondo occidentale è governato da una ristretta minoranza che sono le oligarchie finanziarie che sono siano 20-30 famiglie e quell'1% che detiene la ricchezza di 3 miliardi 600 milioni 3 miliardi 600 milioni di persone che decide il bello il male e il brutto il bene di tutti gli altri in funzione dei propri interessi non dimentichiamoci non dimentichiamoci che c'è un libro del 1895 1895 di Gustavo Le Bon che si chiama La psicologia delle folle che basta prendere quel volume e applicarlo e io creo il regime che voglio in qualsiasi momento questo è il punto tutto il resto è palcoscenico grazie inizierei con le risposte perché qui si stringato perché ci cacciano va bene allora velocissimamente populismi populismo sì dipende nel senso che sicuramente possiamo distinguere diversi populismi storici e ogni paese ha la sua storia le sue caratteristiche però mi sembra che sia possibile anche ragionare di un concetto che non deve avere troppi connotati per essere per avere un'estensione sufficiente a coprire i vari fenomeni e quindi di individuare per lo meno un'area di famiglia tra anche fenomeni che si sono sviluppati in tempi storici e in luoghi diversi diciamo che rispetto ai diversi popoli è vero che spesso si parla di populismo con riferimento al popolo inteso come comunità organica ma forse bisognerebbe aggiungere il popolo pubblico la democrazia del pubblico alla manenne il popolo televisivo atomizzato che è un popolo che non è un popolo ma è che comunque si relaziona con un leader televisivo prima e seconda repubblica quale è la più democratica ma sicuramente a me sembra le istituzioni della prima repubblica erano più attrezzate a contrastare esiti populistici sicuramente perché così erano quelle che rispecchiavano quel modello che è scritto nella nostra costituzione e che poi non a livello costituzionale ma a livello di costituzione materiale come si dice è stato mutato ma non solo ci sono state alcune riforme anche pesanti penso all'inizio degli anni 90 l'elezione diretta dei sindaci l'elezione diretta dei cosiddetti governatori i presidenti delle regioni che ha rappresentato una iniezione di direttismo in un sistema improntato a una logica molto diversa e secondo me è stata un'iniezione non salutare ecco tra l'altro questo è un tema che non abbiamo avuto modo di approfondire ma secondo me potremmo rifletterci il tema del nesso tra i fenomeni populisti che certo sono complessi e sono d'accordo che bisognerebbe parlare di economia insomma di tanti aspetti e forme istituzionali il professor Meni diceva gli Stati Uniti e l'America del Nord e poi l'America del Sud come patria del populismo mentre invece l'Europa a lungo è stata immune dal populismo l'America del Nord e del Sud è anche la patria del presidenzialismo oltre che delle primarie che introducono anche esse la logica dell'investitura del leader a livello di partito io mi chiedo mentre invece Europa con la Francia che ha un percorso particolare insomma a partire da De Gaulle comunque insomma è invece stato il continente del parlamentarismo quindi senza volere fare delle equazioni o stabilire determinismi che sarebbe fuori luogo però mi chiedo se il parlamentarismo nella sua accezione originaria non sia un fattore che rende meno facile che cresca la pianta del populismo media mediatizzazione della politica e populismo sicuramente è anche stata coniata la categoria di populismo mediatico è sicuramente un elemento centrale perché se poi l'essenza del populismo è questo direttismo il rapporto diretto tra leader e le masse questo si può avvalere non solo della tv prima della radio ai tempi dei primi populismi però in America Latina l'uso della radio poi la tv ma anche i social media oggi che permettono questa comunicazione diretta tra l'altro spesso apparentemente più multidirezionale con anche il pubblico che può dire la sua ma poi in realtà nella sostanza a me sembra unidirezionale possono essere elementi sicuramente che favoriscono questo tipo di esito e quanto all'ultimo tema è un grosso tema sicuramente crisi economica e assetto oligarchico del sistema mondo faccio solo notare che il populismo l'appello al popolo spesso viene lanciato da soggetti che sono membri di quell'elite e quindi sono i miliardari che fanno l'appello al popolo e allora in questo senso non è una risposta quindi dovrebbe essere un'altra lascio ai professor Tarchi sì molto rapidamente è chiaro premettendo che di nuovo in questa sede io mi tengo su un piano valutativo in altre sedi mi piace per esempio in alcuni contesti di altri dibattiti mi piace da una parte criticare anche i populisti e anche criticare i critici del populismo i quali spesso e volentieri come dire sono fortemente unilaterali nel considerare i caratteri di questo soggetto diciamo che per loro è un po' uno spauracchio forse anche a volte dimenticano alcuni elementi significativi che hanno portato dall'interno al deperimento di talune forme democratiche causando quindi un male di cui sono le prime responsabili o i primi responsabili quindi tralascio questo elemento sul quale si potrebbe discutere molto partendo solo da un punto ne cito uno solo le costituzioni non preesistono ai popoli c'è questo piccolo problema che senza la figura retorica l'affizio del popolo non esiste alcuna costituzione quindi il costituzionalismo ha come dire il verme nella mela e è lecitissimo più che legittimo difenderlo come se fosse l'estrema frontiera contro la barbarie però guarda caso i popoli da quando esiste un pensiero sulle leggi fondamentali sono sempre stati ritenuti i soggetti che hanno il diritto o dovere di proporre imporre o modificare una costituzione quindi già questo ci aprirebbe uno scenario molto ampio però lasciamo da parte mi tengo appunto su un altro piano brevissimamente allora c'è un populismo o ci sono più populismi e dipende siamo tornati all'inizio del mio discorso da quale versione si dare populismo io sono arrivato molti anni dopo una prima versione della riflessione su questo tipo di cose ancora di più dall'inizio della riflessione sul populismo in generale alla definizione come mentalità perché al mio parere è l'unica che consente di collegare fra di loro in un unico soggetto populismo tutta una serie di espressioni in realtà molto variegate se si pensa ad altri elementi costitutivi possibili e legittimissime definizioni alternative di populismo si può parlare di populismi per esempio se si va sul terreno delle forme di regime politico e non c'è più un populismo ci sono ovviamente delle declinazioni estremamente diverse per cui senza semplificare senza dire che per dire tutti i populismi storicamente realizzati sono stati totalitari parola da maneggiare con molta cura perché le esperienze latinoamericane per dire sono state molto varie hanno avuto certamente componenti anche di carattere autoritario non le definirei totalitarie nessuna di quelle realizzate in quel contesto però hanno avuto elementi plebiscitario democratici di vario genere qui non staremo a scannarci o a discutere sul ciavismo piuttosto che non sull'esperienza ecuadoregna o su quella boliviana e così via però è un dato rifatto che questa varietà diciamo si è prodotta quindi secondo me non c'è dubbio la premessa della domanda era molto fondata altre epoche avevano una diversa costruzione del rapporto tra individuo nazione stato e così via e hanno prodotto alcune forme populiste che siano state stataliste sinceramente non direi perché il populismo vero nel fondo ha una sua categoria diciamo abbastanza ampia di punti di riferimento e non è populista chi non ha una gerarchia precisa ideale che mette popolo nazione stato sopra medio sotto se mette lo stato prima è un'altra cosa è un'altra cosa e questo spiega perché molti confondono volutamente o no per dire l'estrema destra è il populismo ma su questo si aprirebbe tutto un altro scenario tutta un'altra discussione due sole cose brevemente sì indubbiamente alcune evoluzioni della politica hanno favorito l'emersione di tendenze populiste però di nuovo siamo lì quali tendenze perché io non nego mica che il populismo sia anche uno stile politico certo che lo è ma il fatto è che il populismo stilistico è una proiezione parziale della mentalità populista quindi ora io non voglio farmi autopubblicità e dire l'ho detto nel mio libro però per dire Berlusconi è una cosa forse Italia è stata un'altra cosa quindi l'esperienza del discorso politico di Berlusconi si può in larga misura attribuire a una proiezione stilistica di una mentalità populista il suo partito di riferimento non ha riprodotto quel tipo di mentalità e si potrebbe stare a discuterne a lungo ma avere molti elementi per poterlo dire ci sono pareri diversi ovviamente chi considera per esempio quell'esperienza tutta fatta di populismi eccetera io non la penso così ma non c'è dubbio che per esempio l'irruzione del marketing nella politica e il fatto che oggi tutti i soggetti politici in tutti i paesi del mondo ritengano che non si possa cercare di vincere un'elezione se non facendo ricorso al marketing politico favorisce necessariamente che cosa un'altra cosa che sta nel populismo ma certo non sta tutta nel populismo e qui ci sarebbero terreni di discussione ampia con quanto veniva detto prima cioè la demagogia la demagogia è certamente una componente significativa del populismo non è identificabile col populismo perché sta in larghissima misura in tutta la politica contemporanea e in gran parte della politica non contemporanea quindi è un elemento secondo me io per esempio non ho mai condiviso e l'ho scritto e l'ho detto la posizione di Taghief il quale icasticamente ha scritto il populismo è la traduzione contemporanea della demagogia no la demagogia non è un elemento sostanziale ma ci sono vari punti secondo me sui quali il populismo va decisamente oltre quindi è chiaro però che la demagogia c'è il marketing politico c'è il terreno fertile per il populismo c'è ultimo elemento veramente microscopico beh certo si può ironizzare sul fatto che ci sono dei promotori come si dice oggi degli imprenditori di populismo che sono dei miliardari non tutti lo sono e soprattutto non sono miliardari i loro sostenitori i loro votanti e chi disprezza i populisti non sto parlando dei presenti ma dei politici che disprezzano i populisti rifacendosi a determinate tradizioni politiche che stanno molto alle loro spalle si dovrebbero chiedere perché quelle categorie sociali che un tempo votavano per i loro progenitori adesso votano per i populisti si domandino il perché si diano delle risposte perché se non sono in grado di farlo i populisti riusciranno a guadagnargli ancora altri elettori non proverò a rispondere a tutte le domande ma vorrei ricordare che all'inizio della democrazia c'è stata questa illusione che la democrazia poteva esistere con il voto poi c'è stata una disillusione i popoli si sono reso conto che il voto era importante ma non bastava c'è stato dopo la stagione dei diritti perché i diritti era il modo di dare sostanza a questa democrazia poi abbiamo avuto la stagione del welfare state cioè più eguaglianza ma il problema è che oggi malgrado tutti questi correttivi le democrazie non funzionano tanto bene o non come dovrebbero o come si spera dunque ogni tanto c'è una rivolta vent'anni fa o no trent'anni fa sarebbe stata una rivolta libertaria 50 anni fa sarebbe stata l'ideologia comunista oggi le ideologie sono quasi sparite il populismo è l'espressione di questa rabbia soddisfazione frustrazione piace o non piace ma è la forma presente e questa protesta risulta per parte non soltanto della cartellizzazione della decadenza dei partiti politici che non sono più in grado di affrontare diciamo la gestione delle democrazie ma viene della disfasia della 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 differenza fra il quadro politico che è e rimane quasi esclusamente nazionale e le politiche o le decisioni che non lo sono più oggi la nostra vita quotidiana può essere determinata dal trattato fra l'Unione Europea e la Cina che prevede non soltanto i dazi questo è secondario ma delle norme e queste norme si applicano tramite dei trattati internazionali al quale i partiti politici non diciamo non fanno cura firmano il Parlamento vota nell'indifferenza generale ratifica e dunque siamo in una situazione dove il quadro della politica è completamente diverso del quadro dell'economia c'è un autore americano che ha parlato della coppia infelice dell'economia e della politica e stiamo in pieno divorzio l'Unione Europea era un tentativo in un certo modo per avvicinare purtroppo sappiamo che la democrazia europea è troppo debole troppo sottile che non funziona eccetera dunque c'è questo ripiegamento nazionale disastroso perché sappiamo che i nazionalismi hanno sempre portato alla chiusura e in alcuni casi alla guerra dunque la situazione da questo punto di vista il populismo poi vediamo un'altra evoluzione del populismo all'inizio il populismo europeo era quasi folclorico oggi vediamo un'aspirazione all'autoritarismo Trump Erdogan Orban la Polonia c'è un c'è dell'appetito per il capoforte e il popolo puro grazie abbiamo ancora cinque minuti per tre domande una per ognuno dei relatori più che una domanda più una palla vorrevo una riflessione partendo su Tocqueville società dei diritti società dell'informazione con la società dei diritti mano a mano venivano a perdere peso le odiologie che non venivano sostituite non ce n'era bisogno con l'istorarsi di una crisi questa mancanza può essere ricercata in risposte semplici come diceva il professore prima è una conseguenza del populismo e della comunità che non funziona io mi ritrovo a Torino a fare corsi di educazione civica perché in Italia non si studia educazione civica la comunità europea ha un problema di comunicazione o di esprimere nuovi cittadini che possono andare alle urne quando manca questo dialogo si possono instaurare il populismo e la ricerca di risposte semplici questa cosa della comunicazione è importante Montesquieu diceva che la democrazia è quella che fondamentalmente ha bisogno del più alto tasso di istruzione per poter esistere Rousseau diceva che non si può essere democrazia senza diversità economica con diversità economica quel problema è stato risolto dalla società dei diritti oggi c'è un problema forse più di cultura di comunicazione dovuto al fatto che una società dell'informazione c'è un'iper formazione e quindi una necessità ancora più alta di essere protetti con un'educazione questo forse è molto importante per il futuro dell'Europa per creare cittadini europei un'ultima cosa in Europa sia cittadini europei se tu vuoi essere vuoi avere una conoscenza non è passiva l'educazione quindi io voglio vado all'università ho l'Erasmus e tanti altri progetti né più né meno come in Italia si è creata l'identità nazionale con la scuola obbligatoria che arriva a tutti non a chi vuole andare più che l'impresa dei mille che in Sicilia dove la gente non è andata a scuola non è unito neanche oggi quindi questo grazie stava io volevo chiedere come noi giovani possiamo crearci gli anticorpi per rispondere al populismo perché effettivamente il populismo propone delle soluzioni semplici reali a problemi che sono concreti però quindi come noi possiamo crearci gli anticorpi per combattere grazie sarò telegrafica io concordo con molte delle cose che sono state dette tranne una ovvero sono molto dubbiosa sul fatto che la soluzione o l'anticorpo per combattere così il populismo possa essere un'iniezione di più rappresentatività perché se così fosse non saremmo in questa situazione nel senso che noi veniamo da un periodo in cui i partiti rappresentativi erano molto forti invece adesso ci troviamo in questa situazione in cui invece il populismo sta prendendo piede e vengo alla mia domanda lei prima ha detto che non abbiamo un esempio di democrazia funzionante basata sulla democrazia diretta intanto mi viene da chiedere come come misuriamo una democrazia funzionante questa è la prima domanda che mi viene da dire e secondo invece perché invece la Svizzera ad esempio in cui c'è la democrazia diretta non può essere un esempio funzionante io la vedo come invece un forte anticorpo alla degenerazione oligarchica dei partiti che ha portato a uno svuotamento della loro rappresentatività che invece di essere rappresentanti del popolo erano rappresentanti della propria classe diciamo politica di riferimento grazie io avevo una domanda per la dottoressa Pazzee riguardo al concetto di democrazia cefala di cui ha parlato sul modello di Kelsen ma io faccio questo esempio perché in realtà quello che si prospetta per l'Italia secondo molti visto che andiamo verso una legge elettorale che sarà molto probabilmente proporzionale e verso un Parlamento prossimo futuro all'inizio dell'anno prossimo che sarà molto probabilmente ingovernabile o quasi ecco e si è parlato a questo proposito alcuni hanno parlato di sindrome Weimar io proprio di Weimar vorrei parlare e della fine della Repubblica di Weimar quando quando Hitler fu nominato cancelliere nel gennaio del 33 alle elezioni precedenti aveva preso il 33% dei voti quindi non era proprio imbattibile non pensa lei che se ci fosse stato un leader autorevole di quelli che forse a lei non piacciono molto in grado di coalizzare il centro i socialisti eccetera e di fare in qualche modo da contraltare Hitler forse gli orrori dell'Holocausto non ci sarebbero stati grazie grazie anch'io sarò telegrafico allora io sono molto d'accordo con il concetto che la politica locale ha perso forza a fronte di un ruolo che ha assunto invece la politica internazionale ma più che la politica direi l'economia nel senso che sostanzialmente sono diciamo d'accordo con chi identifica che oggi come oggi l'economia abbia un ruolo forte a discapito di una politica che abbia un ruolo molto debole che produce che questo ha prodotto anche delle forti iniquità e delle concentrazioni di potere molto forte a livello mondiale stiglitz e compagnia cantante eccetera ci ho detto quello che voglio dire anche in funzione di quelle che sono le trasformazioni ulteriori sociali come la nuova rivoluzione industriale tecnologica che viene prospettata eccetera gli spostamenti dei rassetti geopolitici come gli spostamenti dei traffici commerciali atlantico verso il pacifico eccetera quindi di nuovi paninsesti geopolitici e forze internazionali quale ma di diciamo problematiche trasversali a una classe sociale che attualmente non si è ancora identificata a livello internazionale cioè quanto è vero che manca l'identificazione di una classe sociale internazionale che deve portare avanti una propria stanza nei confronti diciamo di un'elite che concentra oggi un fortissimo potere e come i partiti possono interpretare questo eventuale ruolo grazie grazie tante domande e 30 secondi allora non abbiamo abbastanza parlato della rivoluzione tecnologica che permette oggi nello stesso tempo l'individualismo assoluto siamo tutti giuristi o tutti politici facciamo un click like o mandiamo un testo e nello stesso tempo dunque c'è una specie di uberizzazione della politica non abbiamo più mediazione e il popolismo può svilupparsi su questo perché l'aggregazione si fa di una maniera quasi tecnologica 500 mila un milione tre milioni di persone lo pensano così dunque questo è anche una rivoluzione nel modo di fare politica poi la trasversalità ci sono delle forze trasversali mondiali ma che possono essere molto potenti nell'economia o nel mondo nell'ecologia o nell'aiuto umanitario eccetera ma sono delle forze che non sono organizzate o aggregate e di nuovo abbiamo questo dislivello fra l'orizzonte della politica e a questo punto viene un'osservazione giusta il populismo ha la coerenza della semplicità il popolo la nazione i stranieri fuori facciamo scusatemi i cazzi nostri e gli altri ma questo discorso non tiene cinque minuti dunque forse purtroppo che l'unico antidoto al populismo è di dare ai populisti qualche responsabilità penso che per esempio i cittadini romani dopo aver visto l'esperienza di una gestione fra virgolette populista forse dopo tutto non fanno meglio degli altri vedremo anche a Torino forse che è un populismo un po' più ragionevole ma anche un po' un paradosso dunque quando De Gaulle fu eletto un uomo politico aveva detto sarà un cattivo momento da passare il momento è durato parecchio vedremo se il populismo può essere assorbito o se invece se invece fallisce perché non è in grado di proporre delle soluzioni accettabili e credibili grazie l'ultimissima risposta forse professoressa Pazze in disperatissima verità sulla questione del proporzionale e dell'ingovernabilità io non tirerei in ballo Weimar che aveva altri problemi la costituzione di Weimar tra l'altro prevedeva poteri eccezionali enormi al presidente del Reich non tirerei in ballo Weimar guarderei all'Europa di oggi 27 anzi 24 paesi su erano 28 senza la Gran Bretagna 27 paesi dell'Unione Europea hanno il sistema proporzionale quindi proporzionale uguale in governabilità abbiamo visto le elezioni in Olanda è ingovernabile l'Olanda faranno un governo di coalizione è ingovernabile la Germania la Svezia credo che dobbiamo un po' riflettere su quello che è una sindrome tutta italiana per cui c'è stato detto vocazione maggioritaria guai un solo partito deve conquistare tutto il potere e governare la governabilità è quella la mia lettura è diversa anche rispetto all'intervento che sentivo cioè io non penso che noi abbiamo vissuto una crisi di governabilità ma di rappresentatività il Parlamento che attualmente è in carica e continua a essere quel Parlamento che è stato eletto col Porcellum legge giudicata incostituzionale in cui il PD aveva preso il 25% quasi il 25% e ha avuto un premio di maggioranza enorme insieme a SEL il 54% insomma ci stiamo abituando ormai è normale ma la democrazia forse è un'altra cosa e magari guardiamo anche ad altri modelli al di fuori di noi la Germania quasi tutti i paesi dell'Unione Europea che hanno sistemi proporzionali e insomma funzionano abbastanza bene quindi direi che su questo punto ci sarebbe molto da dire ma basta ma mi fermo perché non abbiamo dettagli grazie a tutti grazie ai relatori grazie per aver partecipato e continuate a seguire gli eventi di Biennale Democrazia e il CEST grazie grazie